Domenica 5 novembre si corre la Maratona del Lago Maggiore, come stanno andando le iscrizioni? Le iscrizioni sono più 20% rispetto all'anno scorso, quindi molto meglio. Sarà una dodicesima edizione che ritorna sul percorso originario del 2011-12, quindi ci aspettiamo anche che questa edizione sia poi una... funzioni da volano per le edizioni future. Accanto ai 42 km anche altre distanze? Sì, abbiamo la classica Maratona che si sviluppa sul percorso che ritorna da Rona, passa da Stresa e arriva a Verbagna. Sicuramente c'è la gara più numerosa, diciamo che è la mezza Maratona che si ferma a Stresa. C'è una 33 km che viene utilizzata come lungo pre-Maratona e poi una 10 km che sta andando davvero alla grande, sono 400 gli iscritti oggi, quindi è la parte finale del percorso della Maratona. Quindi partenza da Fondo Tocce ed arrivo nella rinnovata piazza pedonale di Pallanza. Gli orari di partenza sono confermati per Maratona e mezza Maratona alle ore 9 da Rona, la partenza della 33 è confermata alle 9.30 sempre da Rona ed arrivo a Verbagna. Invece la 10 km partirà da Fondo Tocce all'incirca sul ponte del Tocce alle ore 11.30 e con arrivo sempre a Verbagna. Se oggi è l'ultimo giorno per potersi iscrivere online, per i ritardatari ci sarà in ogni caso la possibilità di aderire alla manifestazione domani e sabato al Lago Maggiore Marathon Village, collocato sul lungo lago di Arona. Ulteriori dettagli relativi all'evento e alle modifiche e alla viabilità sono invece consultabili sul sito www.lagomaggioremarathon.it